Guido Guidesi, come commenta i dati dell'Istat che danno in calo il prodotto interno lordo nel primo trimestre di quest'anno? L'Istat oggi ci dice che l'unica cosa che ha stabilizzato il Partito Democratico è la recessione. Il prodotto interno lordo è ancora in calo dello 0,1% nonostante le previsioni ottimistiche del governo del Partito Democratico, prima con Enrico Letta e poi con Matteo Renzi. Noi oggi diciamo a Matteo Renzi di piantarla, di smetterla con gli annunci continui da campagna elettorale e di occuparsi del disagio economico e sociale che stanno vivendo i cittadini, diciamo di occuparsene perché oltre alla recessione è in aumento il debito pubblico ed è in aumento la disoccupazione. O Renzi si occupa di queste cose o se no si arriverà al default quanto prima.